Con 210 video servizi, Gilda TV nel 2015 ha cercato di raccontarvi la vita della scuola italiana. A cominciare dalla riforma alla buona scuola, ottenuta ricorrendo in Parlamento al voto di fiducia, come se fosse un'emergenza. Gilda TV ha seguito tutto l'inter della legge 107, ma ha dedicato la sua attenzione anche ai problemi dei precari, ai ricorsi e alle sentenze che riguardavano la scuola, ai pensionanti e alla mobilità degli insegnanti. Anche la salute dei docenti, i diritti e i doveri degli insegnanti e la didattica hanno avuto spazio in questa web TV. Non sono mancati i servizi da convegni, assemblee, manifestazioni, la presentazione della rivista Professione Docente e gli aggiornamenti con le news settimanali. Questo impegno continuo è dedicato a voi che ci seguite, stimolandoci a fare sempre di più e sempre meglio. E per questo nuovo anno la redazione augura a tutti di trovare il tempo per essere contenti. Buon 2016! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!